Prende il via Pordenone Sorprendimi, il nuovo, creativo e sorprendente concorso fotografico per immortalare Pordenone e le sue bellezze. Se hai tra i 15 e i 30 anni, sei di Pordenone provincia e ami fotografare, partecipa al concorso, diventa protagonista della mostra in Galleria Bertoglia e vinci premi in palio. Sono diversi i motivi che mi hanno spinto a promuovere questo concorso. Il primo ovviamente è quello di coinvolgere i giovani attivamente nella vita artistica e culturale della città. Lo stiamo facendo attraverso tante iniziative, questa è una. Il secondo motivo, allo stesso tempo, i giovani diventano ambasciatori del nostro Pordenone, ambasciatori quasi turistici. Terzo motivo, hanno la possibilità di esporre le loro foto assieme a un grandissimo della fotografia, Elio Terwitt. Ed infine, facendo così, rafforziamo anche le mostre che noi facciamo. Cioè, questa iniziativa diventa un'iniziativa di supporto alla mostra principale di Elio Terwitt e così riusciamo a coinvolgere la città nelle iniziative espositive. Tutte le info sul sito del Comune alla pagina comune.pordenone.it slash sorprendimi.